A Messina le chiamiamo doppiette e si fanno rigorosamente con le melanzane fritte. Qualcuno arrotola le melanzane con dentro la pasta formando degli involtini, altri invece fanno come me. Una melanzana fritta come base, un'abbondante forchettata di spaghetti e a chiudere un'altra fetta di melanzana. Molto più semplice. Il risultato è comunque un piatto strepitoso, per i giorni di festa, quando vogliamo fare bella figura con gli ospiti o per la domenica. Gli ingredienti che servono sono 3 melanzane tonde, circa 1,4 kg, 320 g di spaghettoni, 80 g di formaggio grattugiato, 180 g di provola filante, un po' di ricotta infornata e olio di semi per friggere. Dobbiamo fare anche un sugo semplice, quindi servono 750 g di passata, una cipolla e del basilico. Iniziamo proprio dal sugo. Tritiamo la cipolla, la lasciamo appassire qualche minuto in olio di oliva, quindi aggiungiamo la passata di pomodoro, un po' di sale, qualche foglia di basilico e cuociamo con il coperchio socchiuso a fiamma dolce per circa 20 minuti. E adesso passiamo le melanzane. Le laviamo, le spuntiamo e le tagliamo a fette circolari di circa un centimetro di spessore. Chi ha tempo può farle spurgare con un po' di sale per poi strizzarle e friggerle. Io questa volta salterò questo passaggio. Quindi dopo averle tagliate, scaldo generoso olio di semi adatto alla frittura e frigo da un lato e dall'altro facendo dorare bene. Man mano che le fette sono pronte, le appoggio su carta assorbente per scaricare l'olio in eccesso e le insaporisco con un pizzico di sale. E adesso non resta che cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolandoli qualche minuto prima del termine della cottura, così da lasciarli al dente. Dopo averli scolati, li mettiamo in una ciotola per poterli condire con la passata di pomodoro, lasciandone un po' da parte, e del formaggio grattugiato. E ora la parte più divertente, diamo forma alle doppiette messinesi, un po' di passata sul fondo della teglia. Sistemiamo le prime fette di melanzane fritte, una accanto all'altra, ovviamente senza addossarle. Su ogni melanzana, una forchettata di spaghetti ben arrotolati. Formiamo una sorta di nido, al cui centro troviamo spazio per un pezzo di provola filante. e adesso copriamo con altre fette di melanzane. Completiamo con qualche cucchiaio di pastata e una spolverata di formaggio grattugiato. Doppiette pronte per andare in forno, modalità ventilata a 180 gradi per una ventina di minuti. Ed ecco le cotte profumatissime e filanti. Manca solo un ingrediente che i messinesi amano tantissimo. La ricotta infornata da grattugiare. Utilizzo una grattugia a fori larghi. Metto ancora qualche foglia di basilico per rendere il piatto più bello. E si corre subito a tavola. Per gustare le doppiette ancora calde e squisite. Un piatto ottimo anche da riscaldare l'indomani. Ma dubito che ne avanzeranno. Provatele anche voi, fatemi sapere se vi piace. Io vi aspetto presto con una nuova videoricetta. Un abbraccio a tutti da Valentina.